Bella a tutti ragazzi uniti in questo inizio video, io sono Mau Io sono Davide Oggi siamo qui in questo inizio video perchè andiamo a parlare di nuovi regali che l'Epic Games ci farà Dopo che abbiamo visto questo bellissimo regalo, ecco qua, di With the People Che ci verrà dato da domani fino al 30 luglio se non sbaglio Arriva un nuovo regalo della sezione Party Royal Ci spostiamo qui, eccolo qua Diplo Present, Higer Ground Ragazzoli, vedete un po' cosa c'è scritto Sarà tutta un'altra storia con la copertura After Party Reattiva la musica, disponibile gratuitamente Effettuando l'accesso a partire dal 31 luglio alle 2 di notte, ora italiana Fino al 2 agosto alle 2 di notte, ora italiana Diplo Present, Higer Ground Sarà in diretta sul palco in principale, vabbè, lasciamo stare La cosa che ci interessa a noi è la mimetica Potrete comprarla dal negozio oggetti di Fortnite Oppure ci verrà data gratuitamente dal 31 luglio fino al 2 agosto Segnatevi questa data Sta succedendo un po' come è successo con questa qua con la emote Che ci verrà data domani E poi verrà come le anche le ali al neon Quindi adesso io mi trovo sul sito di Play Games E vi leggo cosa c'è scritto Abbigliamento estetico Porta la festa su nuove vette Il costume Envision deputerà nel negozio oggetti a partire dal venerdì 31 luglio alle ore 2, ora italiana Il giorno prima dello spettacolo Insieme al dorso decorativo e reattivo alla musica Zaino DJ e il piccone coltelli leggeri Inoltre i nuovi costumi Diva del gruppo, MVP gruppo e Seda del gruppo affiancheranno il costume vita notturna che ritorna con un nuovo stile Quindi adesso è la vecchia skin che è uscita, quella di che reagisce alla musica Nello spirito dello spettacolo tutti questi 4 costumi sono reattivi alla musica E questo l'abbiamo capito Leggiamo ancora un po' Prendi a luce con te al tema dello spettacolo Questa inedita copertura per il dopo festa reattiva alla musica Verrà fornita gratuitamente a tutti i giocatori di Fortnite Che entreranno nel gioco da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto fino alle 2 di notte Quindi ragazzoli dal 31 luglio fino al 2 agosto Se entrate in Fortnite vi daranno gratuitamente questa mimetica super figa Ragazzi in questo video qui vi voglio dire solo questa piccola cosa Quindi ricordatevi che se date entrate in game dal 31 luglio fino al 2 agosto Per ottenere la mimetica dopo festa Quindi after party ragazzoli vi ripeto Entrate tutti dal 31 luglio alle ore 2 fino al 2 agosto fino alle ore 2 di notte Ricordatevi vi regaleranno la nuova mimetica ragazzoli Quindi dal 31 luglio fino al 2 agosto avete la possibilità di portarvi a casa una nuova mimetica Gratuita e reattiva alla musica Detto tutto ciò vi ricordo comunque di iscrivervi al mio canale Lasciate un commento, un like e di supportarmi Entrate in game dal 31 luglio fino al 2 agosto E otterrete la nostra bellissima mimetica Detto ciò noi ci vediamo in un prossimo video Bella raga